Vangelo del giorno e breve commento 25 aprile 2023 San Marco Evangelista In questo giorno la Chiesa ricorda il primo evangelista Marco che ha messo per iscritto il Vangelo raccogliendo i momenti più importanti della vita di Gesù Marco non ha visto Gesù nel momento dei miracoli nella sua missione terrena quando appunto era acclamato dalle folle la tradizione lo vuole nell'ultima parte della vita di Gesù dal Getsemani in poi questo incontro però gli cambia la vita ma ogni incontro con Cristo deve cambiare la vita anche noi se abbiamo incontrato Cristo dobbiamo cambiare la nostra vita l'abbiamo cambiata? Lo abbiamo incontrato Cristo? Ascoltiamo il Vangelo di questo giorno di festa dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura chi crederà e sarà battezzato sarà salvato ma chi non crederà sarà condannato questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome scacceranno demoni parleranno lingue nuove prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno imporranno le mani sui malati e questi guariranno il Signore Gesù dopo aver parlato con loro fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio allora essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano questo Vangelo è bellissimo siamo nel momento dell'ascensione Gesù dono il mandato andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo ad ogni creatura c'è una missione una Chiesa che non vive questa missione non è Chiesa la Chiesa deve annunciare il Vangelo ad ogni creatura c'è una certezza Gesù è presente con quei discepoli che annunciano, evangelizzano, ricordano il Vangelo infatti cosa faceva Gesù, cosa fa Gesù accredita con la Sua benedizione, la Sua grazia e i Suoi segni allora c'è una Chiesa terrena che si muove e c'è una Chiesa celeste che benedice questa deve essere la nostra vita abbiamo ricevuto Cristo, il Suo Vangelo lo abbiamo messo nel cuore ha trasformato la nostra vita e questa vita noi la consumiamo perché altri incontrino Cristo il Vangelo cambino vita con questa certezza il Signore è con noi buon cammino buona evangelizzazione buon annuncio a tutti